Il Foggia Il Foggia per la mia età l'ho visto solo nelle videocassette Quindi ora di trovarmi in questa realtà è veramente bello 4-3-3 di Zeman, a destra o a centrocampo? Dove preferisci? A destra ce ne va a me importa, basta che mi provi È indifferente Ecco, obiettivo personale di questo campionato e obiettivo anche di squadra? Io credo che con la voglia che avremo dei giovani e di intensità Possiamo fare bene